E invece ieri purtroppo si è spento Enzo Molinas, già allenatore di basket dell'Esperia Cagliari e preparatore atletico dei Rosso Blu del Cagliari. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Un pallone di calcio, un pallone di basket, una vita dedicata a questi due sport, ma non solo. Preparatore atletico, uomo di grande spessore, ci ha lasciato Enzo Molinas. Una vita dedicata all'Esperia e una vita dedicata al Cagliari e anche ad altre società. Gigi. Una vita dedicata allo sport, una grande persona. Abbiamo perso un uomo di sport, un amico, uno pronto a darti sempre dei consigli. E' stato il mio preparatore atletico per tanti anni al Cagliari, poi anche alla Palma quando siamo andati in Serie C. E poi è stato sempre in federazione un uomo che ha dato tanto alla Sardegna e allo sport in particolare. Da poco è stato premiato dal sindaco e dalle autorità della città di Cagliari in una giornata dedicata proprio alla sua figura e alla sua mission. che è stata quella di far conoscere lo sport dai ragazzini dei mini basket sino alla prima squadra dell'Esperia in Serie B. E per quanto riguarda invece il calcio, era diventato il confidente di voi giocatore? Beh, diciamo che all'inizio quando arrivò come preparatore non eravamo abituati. Poi il suo modo di fare, i suoi consigli, la sua allegria, il suo sorriso ci ha conquistato tutti. Ciao Enzo, ti ricorderemo con il tuo naso adunque e la tua voce rocca che ci ha dato tanti di quei consigli.